Ma dobbiamo passare per forza da là o anche? No, pure da sinistra vuole. Però sì, da sinistra, da sinistra. Qui è più aperto rispetto al corridoio del cacchio. Ma notando, non stiamo di fretta quando torniamo di qua, giusto? Cioè, posso anche dissaldare, probabilmente, boh. Vedremo, lo scopriremo. Anzi, dirò di più, magari la distruggo nella porta e non la troviamo proprio dopo. Liberiamo qua, Sha. Perché vedi che si muovono. Ok, andiamo. No, qui ce ne sono due. Aiuto! No! Mmm, tavolo in mezzo. Io sono caduto giù. Occhio! Occhio! Merda! Merda! Occhio qua a sinistra, c'è la mamma. L'ho visto. Prova, provi a incettiarla. Dio, 8 mila ragnetti. Cazzo, quando si colpiscono i ragnetti, fin merda. No! Cazzo, cazzo. No, prendiamo la vita sopra. Non c'è una vita qui. No. C'è una vita a sinistra, nel bagno. E le punizioni. Allora, fatemi andare a prendere subito le munizioni, così. Forse mi appresso. Pure voi usate prima queste qua che stanno. Cazzo, 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 cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. No, non cazzo. No, non cazzo. Quali punizioni hai? A destra? Cazzo che stanno qua. Ok. Non pure voi prendetele, potete? Prendetele. Andiamo. che cosa sarebbe sopra dobbiamo prendere quella vita nel bagno e dov'era? qua a sinistra poi ci sono anche quelle giù ok amore entrando ok devo prendere la vita è munizioni di vita vita a destra munizioni a sinistra forse per te era meglio la cazzo che è stupido ho preso solo uno vabbè io c'ho ancora tre addosso tu sciaco? si 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 è perché convenivano mi mancavano due caricatori alla fine accendi andiamo su questo trovato trovato trovato? e stasera mi butto mi butto coltai ok ok tutto in basso ragazzi hai fatto? si standard lasciami la munizione non 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 Ehm... 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 andiamo a aspettare ancora di più Ehm... ah io chiedo solo fuori nooo ma che scolleggiare il tuo microfo io credo che è divertito si si microfono è il microfono anche però che microfono ho sentito scorreggiare un microfono ooo sarei impazziti oh sto distratto nel senso cercando di capire che stanno scendo col microfono ah dice il mio microfono no non so di che era ho sentito soltanto uno scoppiettio oh ricadine beh ci andiamo no la manina eccola sento bah ora si riprende ora si riprende quelle sono capaci e si toglie del fuoco mi butto sulle uova e apro questo ci andiamo a menzioni qua sopra ci andiamo a menzioni che 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 lo fai 3 2 1 vai volevo esplorare tutta la mappa perché mi sembrava strano che non si potesse accedere da destra invece è tutto collegato soltanto che quella porta non funziona proprio l'abbiamo fatto qua si si da dove? da qua no? da dove hai aperto il punto mi servono munizioni no oddio ho stato prendo un colto aspetta lo prendo io ok occhio munizioni un po' per me hai finito i thunder? si oh cazzo aiutatemi oh eh non ho preso un cazzo maledizione va bene va bene va bene così però dai ce le abbiamo eh però poi non le consumo dai ah non le prendi da tentere? no no ah le zanzale maledette mi entra mi entra mi entra vai prendi un batoncino punti in alto a destra eh ok qua è chiuso eh allora no poi siamo da di là allora sento qualcuno bruciare perché? ok ma poi dobbiamo andare al centro che sarebbe qua qua sopra aspetta forse questa ah ma questa tanto non si può chiudere eh ci sento qua render ok munizioni qua a sinistra ce ne sono mi chiamate arriva qualcuno arriva sta arrivando sta arrivando qualcuno oddio mamma mia oddio stender puoi prenderne uno qui tu cazzo una sola però no intanto prendila è buono buttali via dai tutta a destra ragazzi in alto a destra guarda almeno puoi prendere uno intero avvisaci che te roglie ok ok si si ciccio c'è ciccio vabbè se ne vuoi prendere metà io sto sempre messo malino eh ok ok che ero arrivato a zero prima avevo sei colpi quando ho presato quindi che faccio lo metto io non hai finito il giuro si mettilo adesso ah perché non ne hai parlato di munizione ho pensato che fossi full vai ce la fai? a posto a voglia non ci diamo prima questo devi rimanere vicino sennò non esplame tantissimo no opp non so non ci niente e non ci niente è riservato un tecnico un pittellino qui c'erano due vite stiamo bene di vite in realtà sulle munizioni ma ma qua anche munizioni questo qua serve a chi? ora io tra 100 colpi le posso prendere vabbè aspettiamo tra favore prendo eh sì adesso lo hai prenduto tu noi siamo full ah sì facciamo sparare te così te le prendi quelle munizioni e addosso non c'è più niente? sì dove ancora? ah davvero andiamo sì andiamo buttiamoci ma buttati l'obiettivo completato via 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 sto qua si può ricaricare prendile queste sì sì sta per ricaricare ricarica no dico una cura prendiamoci ma che che scorreggia col microfono che non sento pure andiamo a Puglia oh no non c'è Tetris quella ruta la lasciamo la tanto eh sì siamo folla eh papà no no te andiamo no te andiamo ma che stai? niente quando lo giuro su dio non c'entro niente stavolta veramente mi ha dato mazzate sto stronzo non è che mi faccio da mazzate no 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 veramente mi ha dato mazzate bella merda occhio 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 dobbiamo scappare raga ecco cosa dobbiamo fare qua a destra andiamo da qui andiamo correndo vediamo tutti a sinistra a sinistra prima della radice correte l'ho ucciso l'ho ucciso muoviti esce apposta esce apposta quando ci avviciniamo ecco infatti quando ci avviciniamo esce ok c'è il buco giuro vieni qua ragazzi venite venite dove sei passato? da destra da destra veloce non è qua? è qua? è qua è qua è qua è qua ah lol dimmi dietro ma non c'è ma non c'è ma vabbè chi fa? ma vabbè ma vi apri la porta ma vabbè difendilo difendilo abbiamo dodici cure aiuto dobbiamo andare al centro occhio qua ragnetti ragnetti dietro di noi ho chiusa un pochino ragnetti ragazzi non mi fate prendere che stanno arrivando in parecchi la sto blindando ok si può ricaricare questa la chiudo velocemente perché andiamo ricarico 11 cure non è inutile non fare più e dice quindi e niente si riaccendono i fuochi minuti che si può fare di giù c'è il buco ecco non ci facciamo possa che è stata sentita quali qua meraviglia fatta apposta io ci passare erano vogliosa non mi fate colpire raga un solo pacchetto di munizioni io ne ho bisogno in realtà le altre prendo io allora lo metto ho due caricatori vai ok va bene così dai ma arrivano ma te viene con me ragnetti dietro caricato a c'è una torretta c'è una torretta c'è una torretta qui mette piazza la torretta piazza la torretta per piazzare la torretta thunder ok non è quello che devi fare vai akera 10 cure allora giocherino giochetto è iniziato sì finito però sta scaricando i file quale sarà la prossima ci abbiamo un sacco di puntini rossi intorno vabbè quelli alcuni sono bloccati è finita scusi non c'è scappare eh scusi è finito è finito Grazie.